Sì, stai gridendo? Ma che c'è da ridere? Non lo so. Non lo so. Non lo so, non lo so che non devi riuscire le cosce. No, non mi rende chiaro. Non direi altro. Direi altro. Ma il figlio a prendo diventano angeli praticamente. Ma perché io non sento lei che mi sentite da bello. E' un po' quello è normale, non mi sentite. Ma mi sentite. Sì, i capelli, ti capiscono pure il biglio. Sì, sì, sì. Perché va trappolino, te lo giuro. Però non ti avvicinarà. Prima sta proprio finita. No, e poi ci sono quelli indiani, te. Secondo me se lei ne sembrava tanto è pericoloso. Grazie.